Il mare abruzzese gode di ottima salute, la stagione balneare può iniziare sotto i migliori auspici e in sicurezza per operatori, cittadini e turisti. Questo ad eccezione di alcuni tratti a Ortona e San Vito, dove ci sarà il divieto di balneazione per tutta la stagione. È rientrato quindi l'allarme su altri quattro tratti, dopo le prime analisi condotte dall'Arta, che avevano dato valori non conformi ma a causa delle avverse condizioni meteo. Dunque conformità ok per quelle aree a Roseto, Francavilla, Ortona e Vasto, da sottolineare il grande impegno dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente, che con grandissima rapidità ha effettuato tutte le analisi per consentire bagni sicuri nei mari abruzzesi. Sono stati 111 in totale i punti controllati nel mese di maggio dall'Agenzia guidata dal direttore Maurizio Dionisio. Abbiamo temuto che le avverse condizioni meteorologiche potessero stravolgere il dato sulla balneazione. In questi giorni di abbondanti piogge nel mare si è riversato di tutto e anche forse le abbondanti precipitazioni hanno reso il lavoro dei depuratori un lavoro ultroneo rispetto a quelle che sono le capacità tipiche di assorbere le quantità di liquidi che arrivano. Nonostante questo, dopo alcuni risultati negativi, abbiamo effettuato come da regolamento delle suppletive che hanno permesso ancora una volta di accertare le buone condizioni del mare abruzzese.